Musica Buonasera e bentrovati da Honor News, il telegiornale di UTVRS. Apertura con la pagina della cronaca. Aveva probabilmente fatto rifornimento per le festività natalizie, ma è stato fermato dai carabinieri e arrestato dopo essere stato trovato in possesso di quasi un etto e mezzo di cocaina. A finire in manette è stato un operaio di 25 anni di Fabriano, incensurato, ma sul quale i carabinieri avevano messo gli occhi da qualche tempo. Il giovane è stato inseguito dai militari che sono riusciti a fermarlo, mentre cercava di fuggire a forte velocità dopo aver lanciato dal finestrino dell'auto un sacchetto con 113 grammi di cocaina. La droga è stata subito recuperata ed il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Ancona. Macabra scoperta questa mattina in un casolare di Corinaldo in via Falcinelli, dove è stato trovato il corpo senza vita di un 52enne che probabilmente si è suicidato. I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato in flagranza di furto un 57enne di origine napoletana che spacciandosi per un avvocato di una compagnia assicurativa era riuscito a farsi consegnare da un 90enne 3.900 euro in contanti. Grazie ad un'immediata richiesta di intervento al 112 militari hanno arrestato il falso legale che è finito in carcere e recuperato tutto il denaro subito restituito al denunciante. Ed occupiamoci ora dell'omicidio di Pesaro del giorno di Natale. Le indagini proseguono anche grazie all'ausilio di qualche testimonianza. Vediamo il servizio. Aveva chiesto di uscire dal programma di protezione da oltre due anni Marcello Bruzzese, ucciso per vendetta il pomeriggio di Natale in pieno centro a Pesaro con 20 colpi di pistola. La sua unica colpa, essere il fratello di Biagio Girolamo, affiliato all'Andrangheta, che dall'ottobre 2003 iniziò a collaborare con la giustizia. Le organizzazioni criminali hanno una memoria lunghissima e dopo 15 anni anche le sue precauzioni si erano con il tempo un po' allentate. Il suo nome era ben in vista nella cassetta delle lettere, nel quartiere lo conoscevano un po' tutti. In più sembrava avesse abitudini ben consolidate, particolari che non sono sfuggite al clan regino rivale che avrebbe dato l'ordine di morte puntualmente eseguito nel giorno di festa. Anche questo un macabro rituale tipico della lotta fra Cosche. Le indagini nel frattempo proseguono con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e delle testimonianze comunque frammentarie di alcuni passanti che si sono presentati volontariamente in procura a Pesaro per riferire ciò che hanno visto la sera dell'omicidio. Ci sarebbe comunque una super testimone che con ogni probabilità avrebbe visto i killer dopo l'esecuzione. Controlli e perquisizioni a Rizziconi, il paese della provincia di Reggio Calabria, dal quale provengono sia i Bruzzese sia la famiglia Crea, ritenuta la possibile mandante del delitto nel contesto di una faida che va avanti da decenni. Il sindaco Matteo Ricci infine ha chiesto al ministro dell'Interno Salvini una riduzione dei collaboratori di giustizia nel territorio anche la procura e del parere che ve ne siano tanti nelle Marche, proprio perché ritenute una regione sicura rispetto alle altre. Ancora cronaca è stato ritrovato dopo quattro ore di ricerche il sessantenne sparito dalla sua abitazione di Monte Cosaro senza alcuna motivazione. I familiari allarmati dal suo mancato rientro hanno avvertito i calabinieri ed hanno rintracciato l'uomo che sembra soffrisse recentemente di problemi legati alla depressione nelle campagne circostanti, infreddolito ma tutto sommato in buone condizioni. Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 a Santa Maria Parente una frazione di Civita Nova Marche. Un uomo era intento ad effettuare alcune operazioni sopra una tettoia di uno stabilimento quando è scivolato ed è caduto nel vuoto da un'altezza di 4 metri. Subito assistito è stato portato al vicino pronto soccorso per verificare se ci siano lesioni interne pur in stretta osservazione non sembra in pericolo di vita. E grande lavoro dei Vigili del Fuoco per domare un incendio scoppiato ieri in un fienile nei pressi di Acqua Santa Terme. Vediamo. Sono corse diverse ore ai Vigili del Fuoco per domare il vasto incendio scoppiato ieri in un fienile in località Valle d'Acqua nel territorio comunale di Acqua Santa Terme. Un durissimo lavoro quello dei pompieri del presidio di Arquata del Tronto quadiuvati da un autobotte giunta appositamente da Ascoli Piceno perché le fiamme hanno interessato circa 300 rotoballe che si trovavano stoccate all'interno della struttura. Il rogo così alimentato si è subito esteso provocando danni ingentissimi ed un intervento lungo e meticoloso da parte dei Vigili del Fuoco che una volta completate le operazioni di spegnimento hanno poi provveduto ad una faticosa bonifica dell'area e messa in sicurezza del sito per evitare la possibile ripresa dei focolai. Come accennato il fienile è risultato semidistrutto e sono al vaglio degli inquirenti le cause che hanno scatenato il rogo. Per il giorno di San Silvestro e per il 1 gennaio 2019 è vietato ad Ancona usare spray urticanti e far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti di qualsiasi genere simili nelle strade e nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo. Lo stabilisce un'ordinanza del comandante della Polizia Municipale Liliana Rovaldi controfirmata dal sindaco Valeria Mancinelli. Un provvedimento necessario sia per gli infortuni anche gravi che ogni anno a livello nazionale si registrano per l'utilizzo di simili prodotti sia per l'oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita. L'ordinanza fa anche riferimento al disagio che viene causato a persone ed animali e capodanno senza botti anche a Civitanova Marche. A due mesi dall'apertura la mostra di Lorenzo Lotto il richiamo delle Marche sta per toccare quota 10.000 presenze. Sono infatti 8.718 le persone che dal 19 ottobre hanno potuto ammirare i capolavori del pittore veneziano allestiti a Palazzo Buonaccorsi a Macerata. A questi ingressi possono essere sommati circa 2.500 prenotati che nei prossimi 50 giorni saranno a Macerata per vedere l'esposizione tra gruppi organizzati e scuole positivi ovviamente gli effetti turistici che la mostra sta generando. Conferenza stampa di fine anno oggi della CNA Pesaro Urbino per fare il punto sulla delicata situazione economica del territorio e sulle prospettive per il 2019. Sentiamo Manolita Scocco. Non sono poche le novità di quest'anno nel consueto appuntamento che la CNA provinciale di Pesaro Urbino organizza negli ultimi giorni dell'anno. Per la prima volta l'associazione lascia la città capoluogo Pesaro per spostarsi nell'entroterra più significativo Urbino nei locali del Maxiconad Montefeltro. A spiegarne le ragioni è anzitutto il segretario della CNA provinciale Moreno Bordoni. Sì è un segnale importante, siamo a Urbino nell'entroterra perché da tanti mesi la CNA ha deciso di dare un focus di importanza notevole al nostro entroterra. Ci sono aziende che hanno notevoli problemi, hanno degli svantaggi rispetto alle aziende della costa. Non dobbiamo abbandonare quel grande valore anche di imprenditoria che il nostro entroterra ci ha sempre dato negli anni e poter fare le nostre iniziative più importanti. L'entroterra è un segnale fondamentale che deve dare fiducia e deve far credere alle imprese dell'entroterra che non sono abbandonate a loro stesse ma che c'è una grande associazione come la CNA che ha a cuore i loro problemi e cerca in ogni maniera di combattere perché alcune cose vengono risolte. Mi riferisco all'infrastruttura, alla viabilità e anche alla banda larga che sono i problemi molto più impattanti qui che lungo la costa. Tornando ai numeri, la CNA presenta i dati elaborati dal proprio centro studi regionale mostrando una fotografia in chiaro scuro ad evidenziarlo. È il presidente della CNA di Pesaro Urbino, Alberto Barilari. Sì, è un anno in chiaro scuro, un anno di incertezza, anzi è un anno che rilancia incertezza, a dire il vero perché abbiamo ancora una coda di problema derivante oramai da dieci anni quindi chiusura di imprese, piccole imprese abbiamo un meno 1,4% sulla provincia nei vari settori i settori che hanno più problemi sono le costruzioni, il commercio ma anche la manifattura abbiamo dei problemi di chiusura di aziende ma io la considero una coda di quello che è successo dieci anni fa ma va fatto notare anche che abbiamo un periodo di incertezza tale che sicuramente non fa bene l'economia incertezze dovute a incertezze politiche dovute a incertezze internazionali dovute al terrorismo dovute a tante cose messe insieme metalli che anche negli ultimi mesi l'Istat ha certificato un caldo della fiducia sia delle imprese sia dei cittadini E siamo ora alla pagina sportiva capriamo con il calcio di serie B nulla da fare per Lascoli nettamente sconfitta Palermo per 3-0 ad agevolare il compito della compagine siciliana la clamorosa papera del portiere Peruchini da cui è scaturito il gol che ha sbloccato la partita alla mezz'ora del primo tempo nella ripresa le altre marcature di Rosanero con Ciocev nel finale con Zimischi in classifica i bianconeri scivolano all'undicesimo posto fuori quindi dalla zona playoff con 21 punti sempre a più 5 comunque dal Carpi che occupa l'ultima posizione play out nella diciannovesima giornata in programma domenica alle 15 al Del Duca Lascoli riceverà il crotone di Massimo Oddo attualmente terzo ultimo con 13 punti in serie C invece inizia sabato il girone di ritorno ultimo turno prima della sosta invernale vediamo quali saranno gli impegni che attendono le formazioni marchigiane in questo servizio la serie C è al giro di Boa con le squadre marchigiane sospese tra ambizioni e difficoltà sicuramente qualche problema dopo un girone di andata per larghi tratti esaltante ce l'ha la fermana una sola vittoria nelle ultime sette gare e due sconfitte recenti nel giro di quattro giorni il problema più grande per mister Flavio Destro resta l'attacco con appena 12 gol realizzati in 19 partite una miseria pur se la posizione di classifica resta tuttora confortante sulla carta i canarini hanno sabato alle 14.30 una buona chance per riscattarsi nella trasferta di Verona contro la Virtus Vecomp in una gara da affrontare senza D'Angelo Durbinati contro una compagine che al contrario ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare ed è dunque da temere anche per l'intensità che esprime quasi sempre durante le sue partite poi ci si concentrerà sul mercato e tra i nomi più gettonati c'è proprio quello relativo al ritorno di Andrea Petrucci dopo la clamorosa decisione della Vis di metterlo fuori rosa per motivi disciplinari alla stessa ora i pesaresi nelle immagini l'uno a uno di mercoledì contro la Gianna Erminio riceveranno al Benelli una triestina con il dente avvelenato per il capo interno subito proprio contro i cugini del Fano gara di alto livello basti pensare che si affronteranno le due compagini attualmente appaiate al quarto posto con 29 punti sempre alle 14.30 il Fano riceva al Mancini la capolista Pordenone di Mister Tesser sinora la compagine che più si è contraddistinta per continuità di risultati e rendimento con soltanto due sconfitte subite in grande salute infine la San Benedettese in trasferta a Meda contro un Renate certamente non trascendentale giovane ma che sa vendere cara la propria pelle specialmente in casa poi il letargo del campionato sino al 19 gennaio 2019 e ricordiamo che in eccellenza si recupererà la quattordicesima giornata rinviata il 9 dicembre scorso per i tragici fatti di Corinaldo la capolista Fabriano Cerreto riceve domani in casa l'atletico Gallo mentre dura trasferta per l'inseguitrice Tolentino domenica sul campo del Montefano reduce da sette risultati utili consecutivi da seguire con interesse il derby forsempronese per Golese l'altro anticipo sarà Porto d'Ascoli Porto dei Canati si gioca anche nei due gironi del campionato di promozione nel basket di Serie A torna la Vitri Frigo Arena la VL Pesero che cercherà di dare un calcio alla crisi ricevendo Varese domenica alle 20.45 d'obbligo i due punti per non farsi risucchiare dalla coda della classifica in A2 penultima di andata con la XL Extra Light Monteranaro che affronta il Palasavelli alle 18 l'Andrea Costa Imola mentre alla stessa ora sfida interna delicatissima per la Termoforgia Iesi contro la Baltur 100 composto in palio che vale davvero doppio ed andiamo ora a vedere le previsioni meteo per sabato 29 dicembre quanto è grande il tuo desiderio Moplan Arredamenti lo sa perché ha tutti gli strumenti per realizzare la tua casa su misura grazie alla moderna e qualificata falegnameria interna nello showroom più di 1000 metri quadri completamente rinnovati per cucine soggiorni e divani fino al 31 dicembre offerte speciali su tutti i nuovi arrivi rateizzazioni fino a 20 mesi a tasso zero una casa su misura anche delle tue tasche Moplan Arredamenti Castelplanio Ancona ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it previsioni per sabato 29 dicembre al centro al mattino avremo cielo spesso coperto sui settori peninsulari ma senza fenomeni più sole invece sulla Sardegna dal pomeriggio sarà maggiormente soleggiato su tutte le regioni con cielo al massimo poco nuvoloso concludiamo infine con le temperature che si manterranno più o meno stazionarie le minime infatti saranno comprese tra meno 1 e 11 gradi per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 13 gradi al nord fino a 14 gradi al centro e punte di 15 gradi al sud nella pallavolo programma completo aprirà domani sera la Lardini Filottrano al Palabaldinelli di Osimo con lo scontro diretto con la Fenera Chieri in programma alle 20 e 30 è davvero una gara molto importante per coach Schiavo e le sue ragazze per tenere a bada le piemontesi penultime ma che hanno dato di recente grossi segnali di risveglio nella Superlega per la seconda giornata di ritorno la Lube sarà impegnata sul campo di Ravenna inizia il girone di ritorno in a due maschile con nel girone bianco le trasferte della Mengishusa Roma e della Golden Plus Potenza Picena a Brescia nell'altro raggruppamento Videx Grottazzolina in casa contro l'abbordabile Cisano Bergamasco con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana a Brescia e buon fine settimana a Brescia